Musica Vince l'Agropoli e vince bene la sua gara interna con la Frattese per 3-0 restituendo i tre gol dell'andata Parigi ha sorprese il Torrecuso in quelle di Montalto, vince l'Agraf seppur con le sue oggettive difficoltà Agropoli seconda in classifica seppur tecnicamente terza perché ha perso gli sconti diretti con il Torrecuso Benvenuto a questa nuova puntata di Sportmedia, avete visto l'inizio diverso di approccio alla trasmissione Lo ha imparato da questo signore qui al mio fianco, dall'inquadratura, buonasera Sergio Buonasera a te Con Sergio parleremo tecnicamente dell'Agropoli, del campionato, delle prospettive future e stesso dell'Agropoli Eppure anche di altre cose interessanti perché Sergio è sempre uno molto molto sul pezzo e sulla notizia Ci ha appena comunicato che sarà in altre trasmissioni, in altre situazioni da qui a poco Perché giustamente Sergio questo fatto che ti dipani fra tutte queste trasmissioni telecolore Sei un voltone di telecolore, hai i tuoi blog, sei in trasmissione a Napoli stasera Non ti pesa? A livello proprio di logistico, come fai a conciliare tutto? Ma perché io sono uno di quelli che crede che il giornalismo non è monotematico Se io fossi il direttore di una testata, un giornalista non gli farei fare soltanto il calcio, soltanto la politica Secondo me bisogna avere una infarinatura generale e sapere di tutto Perché se tu sei inviato per esempio in un Milan-Napoli come giornalista di cronaca sportiva E all'improvviso succedono incidenti diventi di fatto di cronaca nera Oppure arriva il politico diventi di cronaca politica Tu che stai praticamente elencando le caratteristiche del tuo blog Agropoli News Lo vogliamo dire Ti occupi sia di sport che di queste cose che hai appena detto tu Riesci a conciliare tutto, ad essere sul pezzo, sulla notizia, su tutto Praticamente dovresti stare 24H davanti alla tastiera Il problema è che oggi c'è anche il copia e incolla citando la fonte E io questa cosa la applico come la applicano altri con i miei articoli Io credo che deve arrivare la notizia A me non importa quale sia la fonte È importante la tempistica Cioè tu da giornalista quando una notizia la dai prima tu o magari arrivi dieci minuti dopo un'altra Per me è una guerra tra poveri Io devo dare la notizia attraverso i miei organi di informazione Ma la do dieci minuti prima o la do dieci minuti dopo Perché adesso c'è la corsa di l'ho data prima io, l'ho data prima La fa chi non ha altri argomenti Ah, perfettamente Quindi sentenzia Sergio A me non serve arrivare prima o dopo Serve dare una notizia giusta, l'informazione giusta A me l'importante è che ci sia l'informazione Tu ti dividi tra dare la notizia, quindi fare cronaca E nelle tue notizie dai anche opinione Ti riteni più un giornalista di opinione o un cronista? Questa è una domanda molto pertinente Perché Perché Telecolore mi ha trasformato In opinionista Di fatto Che io nasco giornalista politico Poi di sport, di calcio Però Dopo Ti sembra strano C'è un C'è un momento in cui praticamente io divento opinionista Dopo Quel titolo sul giornale di Agropoli Il cittadino Che riguardava i napoletani Dopo quella situazione Io divento opinionista Perché? Perché non è che mi chiamano solo Tenecolore La mia chiamata pure Gold Calcio Quando è stato voluto E quanto Proprio frutto del tuo momento Nel dare quella notizia E esprimere quell'opinione Forte E' stato fatto istintivo Dopo Calciopoli Perché La guerra dei napoletani Tra virgolette Certo Nasce dalla Juventus in serie B Perché io dissi Quattro giudici napoletani Hanno buttato la Juventus in serie B Beatrice, Narducci, Palazzi E Borrelli E' imparato a memoria Quindi Praticamente Volevo sollevare la questione morale Il mattino mi sgamò dopo due giorni Certo Soprattutto non ho mai avuto paura Di andare proprio controcorrente Trovandosi addirittura Molte volte Non dico In compagnia di poca Addirittura solo Con le cari La difesa di Moggi O altre L'attacco a Giovanotti ad Agropoli L'attacco a Giovanotti ad Agropoli Bravo sui concerti Eccetera eccetera L'attacco a Giovanotti Fu molto Il giornale Libero Riempiro delle pagine Quanto ti senti strumentalizzato Magari su questo fatto Magari ti chiamate il gol Tanto Sergio Dalla notizia Dalla bomba Non ti sei sentito mai No Non strumentalizzato Se uno vuole Vuole fare un po' di opinione Chiamiamo Sergio Ti sei un po' pentito Magari di non aver fatto Tra virgolette Non carriera Perché è una brillantissima carriera Hai molteplici interessi Magari di fare il giornalista D'altissime riei Trattare squadre Magari di serie A Di serie B Io ho fatto la serie A Io ho fatto la serie A Con il Corriere dello Sport Io ero inviato Alla nazionale Under 21 In Campania Quindi Poi ho fatto la serie A Con cronache Del Salernitano Io filmavo No Tu sei sempre Fai le cronache Della Salernitana L'ho seguita a molti livelli Con Teleagropoli Dunque seguivamo C'è Gianni di Testimone Anche i giocatori di serie A I gossip che facevamo Perché si è fermata L'avventura di Teleagropoli Si era partita così bene Era praticamente Una delle poche televisioni Che seguiva C'è stata un'interruzione Poi adesso il bouquet Sul divisiale dell'estasi Moltiplicato Però prima tu eri L'unico Insieme a pochi altri avventori Perché non è proseguita Quell'avventura Non te lo so dire Perché il professore Serra Non me l'ha mai spiegata Vedi Magari questo è un mistero Tipo Chi ha ucciso Kennedy Sul libro che ho scritto Lascio alla fine Questo dubbio Oggi Sono passati tanti anni 19 Non me lo so spiegare Vedi Potremmo stare due ore A parlare solo di te Ti faccio l'ultima domanda Poi passiamo al calcio Cosa vuole fare da grande Cosa vuole fare Sergio Vessicchio Da grande Ancora tante idee Perché tu sei sempre vulcano In senso Hai sempre molte proposte E cose varie Non diventerà mai grande Non diventerà mai grande Va bene Va bene Parliamo di calcio Di domenica La partito L'ho seguita di fianco a te Molte volte Ti ho sentito ripetere La migliore agropoli Della stagione Sei convinto ancora di questo? Però io ho detto La migliore agropoli Della stagione Con due torri Ecco bravo La migliore agropoli Della stagione Con Roccella La migliore agropoli Della stagione Con la frattese Vuol dire che È increscendo L'agropoli Sul piano tecnico Tattico Di gioco E come Organizzazione La classica quadratura Del cerchio Qualcuno ha detto Col Roccella Era andato Non dico fortunato Perché la corba Alla fine ha meritato Di vincere Però aveva fatto gol Nei primi tre tiri Cosa che magari Non gli era riuscito Con due torri Trovando anche Dei portieri Molto forti La differenza Tra la partita Con Roccella E quella di domenica Scorsa Qual è stata Nessuna È un'applicazione Sacrosanta Degli schemi Di Rigoli Se vai a vedere Sono quasi simili Anche i gol Per cui Io credo Che la squadra Abbia recepito Totalmente Fedelmente I dettami Di questo allenatore Che è bravo Molto bravo Che è un Incazzoso Fra virgolette E questo è un fatto positivo Ed è un allenatore Che ci ha messo Anche noi un po' Per riuscire A capire Però ha compreso Io credo Se questo Lo facessero lavorare Io lo terrei Per tanto tempo Sì perché Molto spesso In due articoli Qualcuno Non leggendole Magari a fondo Può pensare Che tu Magari spesso Attacchi l'allenatore Diritto di critica Sacrosanto Magari Io gli faccio Delle critiche Però nello stesso articolo A leggere attentamente C'è anche Queste frasi Che dici tu E non è un fatto Di contraddittorio No 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 Io commento i fatti Nel senso Comunque è un allenatore Che andrebbe Uno su cui addirittura A basare un progetto Dici tu Quindi però Magari uno legge Le prime parole Dice un attacco a Rigoli Invece magari Leggendo in più profondità Il paolo di non essere capito Su queste cose Non ti amare Ma è anche un fatto voluto È molto dimitiano Questo fatto Ah bello Quindi Della tua fede politica Non indago Perché siamo anche sotto elezioni Quindi magari Lasciamo Dimita come filosofo Voglio dire Qual è il miglior merito Di Rigoli Qual è il peggior De merito Il miglior merito Di Rigoli Di aver mantenuto Le promesse Che ha fatto Lui Disse come si comportava E così ha fatto Il peggiore è aver rotto Gli equilibri con Alleruzzo Ah ecco Giustamente Ci siamo andati Alleruzzo Lasciamo giustamente Un giocatore dell'Agro Fatto tecnico Ritengo che lui Ha rotto gli equilibri E purtroppo Rigoli Si è fatto Si è fatto Risucchiare Dal suo Dalla sua Dal suo io Questo giustamente Di assumere responsabilità Di quello che dice Certamente Quello che possiamo dire Come cronaca È quello che fa Belleluzzo Comunque ha 300 partite In Serie C Grandissimo giocatore Ce lo chiamo con la Battipaiese L'anno scorso Cercato anche da Tantissime squadre Quindi Magari Allora aspetta Sulle 300 partite In Serie C Ti contesto Pure Sulle 5 panchine Di Serie A Che ha fatto Certo Non le hai dette Te le dico io Lo sapevo Ma non ha fatto 300 partite In Serie A In Serie C Non ho mai detto Che è un giocatore Scarso Non lo leggerai Da nessuna parte Non lo stimo Né come uomo Né come calciatore Il problema è Che lui è un ex calciatore Su cosa basi Questa tua convinzione È un giocatore Comunque si allena Sempre col gruppo Ha fatto i suoi golli Il medico ha detto Che comunque È abile a ruolare Come tutti gli altri giocatori Perché Perché spesso Batti su questo tasto Scusa se ti Intanto No no Fai bene a chiedermelo Intanto il giocatore Ha segnato un gol Con l'Orlantina Sul 3 a 0 Conta poco Un gol L'altro giorno Sul 2 a 0 A 9 uomini La frattese Quando Agroboli Ha fatto almeno 20 palle gol E ha segnato uno Con la Leonfortese Forse meritoriamente Quindi è stato uno Di fatto Se poi vogliamo fare La classifica dei gol Non ha mai nascosto I problemi L'ha detto anche Nella serie di presentazione Dovrebbe restituire lo stipendio Io ho dovuto un problema Se non sono abile Arruolabile Non è né abile E né arruolabile Perché ogni qualvolta Che viene inserito Fa brutta figura Lo dico apertamente Quindi secondo te Rigoli Che dovrebbe Uno che comunque Guadagna il pane Facendo l'allenatore E uno secondo te Si può buttare la zappa Sui piedi Facendo giurare Il giocatore Non si è buttato La zappa sui piedi Rigoli Sulla questione Alleruzzo Si è giocata La panchina Perché ha detto Qui comando io Autoritario Come nel suo carattere E quindi si è giocata La panchina Accresce magari La stima sotto questo aspetto Però penalizza l'agropoli Penalizza Quindi tu ritieni Alla fine Devi vedere la classifica Facciamo una fanta classifica Agragas prima Agropoli seconda Si parla di bacio Dell'agropoli Tu dici Ha buttato delle occasioni Come le ha buttate Tipo a Sorrento E cosa fare Però alla fine Guardando la classifica Non rispecchia Gli investimenti Si dice che l'agropoli L'agropoli l'abbia investito tanto Ma l'agragas Ha investito quattro volte tanto La classifica non rispecchia Abbiamo a dicembre Si è rinnovata la squadra Lasciamo stare queste cose La classifica Non rispecchia l'andamento Perché se rispettasse L'andamento L'agropoli dovrebbe stare Al primo posto Più dell'agragas Di a Catania Tiscione Meloni Longoni Però gioca male L'agragas Sì L'agropoli gioca bene Come dici tu Tutte le squadre di Feolo Giacono male A parte questo Ma l'agropoli gioca bene E' inutile che ci giriamo intorno L'agropoli è una squadra Che ha un'organizzazione di gio Ha un Ha dei giocatori Che seguono il tecnico Ha una situazione Di rapporti Tra il tecnico E i giocatori Oggi positiva Anche se prima di arrivare A questo connubio positivo Ce n'è voluto un po' Oggi l'agropoli E' la squadra Che meriterebbe Di stare al primo posto Ma non lo dico da tifoso Quale sono Dell'agropoli Perché Devo criticare Figuratevi se Oggi l'agropoli Per come sta portando Mentre scordo le immagini Per come sta giocando L'agropoli Meriterebbe il primo posto Certo La partita di Sorrento E' costata Non pensi che sia stata Quella Il crocevia Quella è stata tutta Perché praticamente Tu devi far giocare Siano E non devi giocare Alle russi Ma è là è stata Perché la squadra Tu eri sugli spalti Hai visto che era in totale controllo La partita Non l'ha seguita più La squadra Non ha seguito più L'allenatore Dopo quelle scelte Tu non pensi Tra i giocatori C'è grande solidarietà C'è grande amicizia Almeno questo mi risulta Il problema è un altro Poi se Uno gioca E un altro no E uno non deve giocare E l'altro gioca Poi si creano Comunque Delle Come si dicono Delle gelosie interne Anche se non lo si dice poi La stima Nei conflitti dell'allenatore E' venuta a mancare In quel periodo Perché poi Cioè il primo passo E' stata l'artita Con due torri La Croce ha fatto 7, 8, 9 palle gol Fermata solo dal portiere Quindi Come abbiamo detto Che c'erano dei problemi Diciamo che oggi E' la migliore squadra Del campionato Allora Vuole sperare Purtroppo Ma ripeto Non lo dico da tifoso Lo dico per i fatti Che emergono Sul fatto Dello spiegato Della Agropoli Unite Te lo confermo Con lo stesso Fabio Alleruzzi Sono veramente Tutti amici Da tanti Si conoscono Con tantissimi Ma il problema è quello Che tra i giocatori Non c'è Non c'è una diversità Di vedute E quello magari Fa sì che vanno A dei risultati Tu vedete Della Agropoli Fortissima Il rinnovamento Con l'abbassamento Della età media Anche l'abbattimento Dei costi Perché c'è Delle giocatori Del caldo di Scognamiglio Che l'anno scorso Ha fatto un campionato straordinario Giraldi Landolfi E altri Che adesso non mi vengono in mente Prendere Canotto Che comunque È forte Ma era un'incognita O altri giovani Come Daniele Arena Come Non voglio dire Matteo Berretti Perché ha fatto La sua Non ritieni che Facendo così Si sia Tra virgolette Se ci metti anche Guarro e Davanzo Dell'anno scorso La squadra era nettamente Più Con più esperienza Con il giocatore Magari che ti salta l'uomo Come Antonio Davanzo Come era Ticcione Ma non ne faccio Una questione di calciatori Ne faccio una questione di gruppo Ander Io sfido a trovare In tutti i nove gironi La rosa di Ander Più forte di quella della grossa Ti faccio due nomi Un terzino sinistro come Russo Un centrocomistro come Gianluca Esposito È un attaccante come Canotto Oppure come Capozzoli O Viscardi di quest'altro lato Cioè quando domenica scorsa E senza nulla togliere a Napoli Che come calciatore Non stimo Però non è quello il suo ruolo È un giocatore ancora cerbo Ha grandi prospettive Il problema è un altro Che quando è entrato Viscardi Russo da una parte Viscardi da una parte Quelli non li contenevano più Il dispositivo tattico di Grimaldi Che è dato come uno dei migliori del campionato È saltato di brutta In una maniera incredibile Cioè io quando vedo dagli spalti Una partita del genere Intanto mi diverto Bravo Quella è la cosa più importante E poi ho visto una partita di calcio Domenica Perché noi non dobbiamo dirlo questo Assolutamente sì Abbiamo visto una partita di calcio È inutile che ci giriamo intorno L'allenatore in questo Ha avuto grandissimi meriti Qualche demerito ce l'ha Però è una squadra al secondo posto Cioè Agropoli Non ha la forza di stare al secondo posto In un campionato di serie D È come se fosse uno scudetto vinto Fammi capire Tu il salto in Lega Pro Tanto ti hai cantato anche dall'altro Lo ritieni eccessivo Per te questa è la dimensione dell'Agropoli? Siamo oltre alla dimensione dell'Agropoli Il secondo posto in serie D È molto di più Di quanto può offrire la città E di quanto può offrire il circondario È un risultato strepitoso per me Ti fermo un attimo su questo Vorrei vedere Ti faccio sentire Quello che ha detto Patronce e Ruti Alla fine Anche tu l'hai intervistato Però ti sei soffermato sulla partita Dopo le considerazioni tecniche Sul fatto Come hai detto anche tu giustamente Che è stata veramente una bellissima partita Perché poi scorrendo le immagini Veramente sono 20 Le palle Gol Si è soffermato Sugli aspetti proprio Della serie D E a domanda tra Questo succede quando In campo c'è la qualità però Senza lui a togliere nessuno Perché vedi con la qualità Siano che partita ha fatto Certo Siano è stato strepitoso Arrivato a luci spente Anche tu non hai lesinato Diciamo Critiche Siano Siano gli ho messo 9 Ho visto Perché non si può mettere 10 È strepitoso Al di là del gol Come hai detto Al di là del gol Pensi se è un giocatore Che dà equilibrio Serve perché Domenico ha dato tutto L'infortunio di Tarallo Sembrava aver comunque Destabilizzato un po' Trovare un assetto Perché la squadra Era abituata a giocare Con la punta unica Questo campo Non mi trascinato Non ti trascino Fermati Perché se dici così Se questo è le promesse Perché io ho detto Che Fermo restando La validità Per Tarallo Per questa squadra Non ha dato Punto di riferimento Più Un'assuefazione Ad un'unica Soluzione Invece così Guarda Si gioca una squadra Detto questo Un centravanti Da 20 gol Con Michele Tarallo Che quelle partite Sullo 0-0 Magari delle schioda L'anno scorso Ce n'è risolto Tranquillo È il Galizia Del Torrecuso No figura Per carità Tarallo è un po' superiore Molto superiore A tutti e quattro Però paradossalmente Io sono stato Da un male Smentito Perché Perché se si fa male Tarallo L'Agropoli Non ha la punta Invece sono stato Categoricamente Smentito Perché l'Agropoli Ha invece messo fuori Un ventaglio Di soluzione Tanto da Da diventare Ancora più bella Prima di sentire Cerruti Ti vuoi fare una domanda Su Capozzoli Questo un fan prodige Che però Non fa mai Il definitivo salto Di qualità Molto discontinuo Talento straordinario Addirittura Si parla di serie A Per lui Ha delle accelerazioni Io poi le vedo Giornalmente in allenamento Perché Non fa questo definitivo Salto di qualità Che lo fa diventare Proprio un giocatore Se te lo dico Non ci credi Dimmelo Perché gli allenatori Si ustinano A giocare Con soltanto I quattro Under Tu quindi Fammi capire Se vorresti giocare Con il quinto Under Per me non sono Under Gli under Degli Agropoli Non sono under Sono titolari In qualsiasi squadra Ovunque Sicuramente Anche quelli che non ce ne è Uno in più Uno in meno Che fa Che poi tra l'altro Si parla di under 94 e 95 Anche un 92 Che è considerato Non under È comunque giovanissimo Parlo di sconaviglio Parlo di arena Parlo di Però sono considerati Magari Lo stesso Siano Siano è un 91 Quasi trattato Come una scarpa Vecchia Perché giustamente Non è in grado Su Siano Devo fare ammenda Su Siano Devo fare ammenda Ecco come vedi Io so So vedere Cioè quando mi sbaglio Anche ricredersi Anche ricredersi Anche ricredersi E non manchi Di dirlo Ci vediamo un attimo L'intervista di Cerruti La parte che la facciamo Sentire anche a Sergio A fine gara Tra West Agropoli E Frattese Dopo i complimenti Alla propria squadra Patron Cerruti Analizza in generale I problemi legati Alla Serie D Il perché Il salto in Lega Pro È necessario Almeno una riforma Della Lega Nazionale Dilettanti Si rende indispensabile Al fine di evitare Il collasso Dell'intero sistema Che genera Solo costi Azzerando il patrimonio Sia economico Che di parco giocatori Della società Costringendo le stesse A ricapitalizzare Di anno in anno Ma sentiamo l'intervista Sul tema Non se ne può più Fare la Serie D O cambiano le regole O naturalmente È giusto che si vada A militare In società professionistiche Perché Come la Lega Pro Perché la Lega Pro Ha dei contributi interessanti Dove oggi Diciamo Una squadra Paragonata con questa La Cro Potrebbe ricevere Circo 800-900 mila euro E sarebbe comunque L'apporto importante Per poter militare In questa categoria Noi abbiamo solo costi Abbiamo una gestione ordinaria Che comunque sta generando E sta creando comunque Questi costi Io stiamo lanciando Gli allarmi Non è possibile più fare Serie D Con queste condizioni O si decide naturalmente Anche la federazione Di cambiarle Queste regole O venire incontro Perché i costi di gestione Sono gli stessi Senza avere nessun profitto E poi si sentono a dire Che la società Sono in difficoltà Non è possibile Sostenere Anche a poterle finanziare Le regole purtroppo Sono fatte Per poterle rispettare E forse non vengono rispettate Quindi a questo punto Un grido Bisogna darlo tutti Ogni anno Scompriranno 4-5 squadre 10 squadre O durante il cammino E poi naturalmente Immangabilmente Non ci sarà Più quell'agonismo sano Che purtroppo Nonostante Qualche squadra Può partire Con Come dire Con intenzioni Importanti Alla fine Suo malgrado È costretto Naturalmente A fare marci indietro Più facile L'assalto alla Lega Pro O il cambiamento Delle regole In serie D Quale sarebbe più piacere Al presidente Cerruti Magari una riforma epocale Di un campionato nazionale Direttante Che si trascina così Da tantissimi anni Sarei contentissimo A stare Un campionato direttante Ma con le regole Diverso Non è Non a questa bellità Per stare lì In un palcoscenico Importante Perché capisco Quando è difficile Anche a giocare Con squadre Con piazze come Salerno Lecce Abbiamo costi di gestione Superiore Quasi superiore a loro Se non abbiamo Solo i contributi Che mancano Però abbiamo regole diverse Quindi tutti i costi Per noi Non rientra niente E noi Fare questi sacrifici Con una piazza di agrope Non ve lo dico Che è veramente Un sacrificio enorme Lo stiamo facendo da anni Però è arrivato il momento Di tirare il freno a mano E di pensare a bene Come si può fare calcio O si fa un calcio totalitario Tutti noi siamo uniti Per poter fare avanti Se non è possibile Portare avanti Noi la carretta Con due o tre persone Che stiamo in società Per sostanere tutto Lo faremo per la dignità Per il rispetto Cercando di trovare Anche dell'economia Di scala Ma soprattutto Economia di gestione Però ecco La domanda che mi è stata posta Io direi Mi frevisco stare Di gli estanti Con regole diverse Ma diventa pure difficile Spero che in queste situazioni Che stanno emergendo Oggi in federazione Sappiamo benissimo Dove anche lì C'è un sistema Che purtroppo Viene biasimato Criticato ogni volta Sistemi di potere Sistemi che non Allora in questo momento Mi auguro È l'ospicio mio Che ravvedono anche Le condizioni della serie D Se non scomparirà Anche questa serie D Un parco giocatori Che magari viene valorizzato Dall'agropoli Certo come è Berrettico E poi alla fine Uno non si ritrova niente Perché sono giocatori Che possono andare via Quando vogliono Io vorrei fare un programma In vero è questo Quando voi volete Sono disponibile Perché adesso È il momento di dire basta Basta e dico tutte le cose Quindi ci spogliamo Delle nostre situazioni Senza essere omertosi Ma dire le cose come stanno Perché la prima cosa Deve prevalere la dignità Non deve far prevalere Le difficoltà della società Perché oggi Anche in modo Per poter finanziare Diventa difficile Con un sistema Anche per quello Che sono sistemi Importantissimi Rigidi E con la crisi Che oggi può incombare Non è ancora facile Però non abbiamo nessun patrimonio Abbiamo qualche ragazzo Abbiamo le difficoltà Abbiamo i ragazzi del posto Ahimè Mi sostengo Che sta scoppiando Anche una bomba Interna ad Agropoli Mi contengo Se non viene ritirata Una situazione Per quelli che I ragazzi di Agropoli Che hanno fatto parte Della Agropoli Sperando che Comunque non ci condizioni Il cammino Anche cagionandoci Almeno una pena È un riconoscimento In termini economici Notevole Però questo Spero che c'è Il buon senso Anche tutti Dell'ex scuso Il buon senso Che naturalmente Rientrano in questa situazione Perché sono persone per bene Persone educate Persone che c'è L'approccio per il calcio Mi auguro Che naturalmente Si comportino così Perché non è un mio patrimonio È un patrimonio di tutti Lo possono prendere Se vogliono E possono prendere Tutti il patrimonio Rimane ad Agropoli Quello che sto facendo Insieme a Francesco Magna A Baroni Siamo noi pochi Stiamo portando avanti Questa carretta Spero che ci sia anche Consenso da parte loro E possono comunque Aiutarci Per poter sostenere Questi poti Poi Il patrimonio Non ci stanno I ragazzi devono andare via Ogni anno Deve versare Per sostenere i nostri colori La nostra fede Sono disposto a farlo Ma basta cambiare le regole Sarece abbiamo sentito Le interviste Della Presidente Cerruti E un po' Che batte su questo tasto Anche nella tua trasmissione Alla domanda Una riforma D o l'assalto In Lega Pro Lui ha detto Praticamente Il succo è questo Ci sono solo costi Se tu valorizzi Un giocatore Capozzoli Canotto Gianluca Esposito Alla fine Non ti rimane niente Non è che tu Hai valorizzato Gianluca Esposito E l'anno prossimo Lo vendi Magari ricapitalizzi Fai altri investimenti Non ti rimane niente Tu sei per il salto Diciamo in categoria superiore Che ci sono Parato di proventi televisivi O una riforma totale Del campionato di serie D Che ti dia qualcosa A fine anno Per gli sforzi che fai Lui dice cose giuste Nella tua intervista Ha detto cose Giuste Che condivisibili Il problema è Che qui Vanno a vedere la partita 300 persone La dimensione dell'agropoli È questa Allora io non mi sento Manco di tartotto A Magna Quando afferma Che praticamente La dimensione è questa Non si può andare oltre Fermo restante Che lui vorrebbe andare Anche oltre Figuriamoci se Magna Non vuole andare oltre Il problema è Di diversità di vedute Tra il presidente e Magna Non sto dicendo Che sono ridicato Sono dicendo Che il presidente Vorrebbe fare la Lega Pro Perché Diciamo La copertura Delle spese Ci sta tutta guanda E avanza qualcosa Tra sponsor Diritti televisivi E gli ingaggi Sono quasi gli stessi Mentre Bravo Quello ti voglio dire Gli ingaggi sono di C2 Ma perché La scelta è sbagliata Che ha fatto l'agropoli Carlo No 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 Non parli proprio In generale di campionati Sono sul campo Sei volte a settimana Questi lavorano Con la D Perché non fare Fanno i professionisti Certo Però l'anno scorso Terzi Pre-off Quest'anno già secondi Quindi la squadra Di fatto Non ha vinto il campionato Però di fatto Ha risposto da professionista Come viene trattata La squadra Perché la squadra Se si pagano gli stipendi È trattata da professionista Giustamente Sì Infatti Perché la società Alla fine Non deve avere niente Niente in mano Magari arriva una squadra Di Lega Pro E questo è il problema Il problema è Di carattere organizzativo E a monte A ragione del presidente Sicuramente Bisogna che si faccia una Come lo vedi Questo sfogo del presidente Una persona che vuole Che vuole continuare Nel senso Come lo interpreti tu Visto che tu sei bravo A interpretare Sono quattro anni Che si sfoga Si sfoga Tu ci hai fatto pure Le scuole insieme Quindi figuri Se non lo sei tu Si sfoga Si sfoga È una persona meravigliosa Diciamo che un presidente Che all'agropoli Va bene Se dicesse meno bugie Farebbe meglio Qualche bugietta A fin di bene Nel calcio Ci sta Va bene Abbiamo giusto Una cosa tecnica L'agropoli È attesa da sette finali Domenica ci sta Frattese Agragas Purtroppo con Domenica andavano pure bene L'espulsione di Mora E di Petrarca Domenica però non ci starà Mora La frattese in casa Si trasforma Secondo te può dar fastidio Alla capolista Agragas Che come dici tu Non è che ciò Con calcio stellare Se l'agragas normale perde Con la frattese Se comincia a giocare Non ce n'è per nessuno E poi subito dopo Ci ha l'agragas Torecuso Pensi che le prossime due giornate Con l'agropoli in trasferta Con l'interregge Poi vabbè In caso col Tiger Bro Non dovrebbe essere difficile Pensi che ci sia Noi non dobbiamo Creare illusioni No assolutamente Hai ragione In questo momento qua L'agropoli è a sette punti Dall'agragas E difficilmente può vincere il campionato Deve mantenersi sulla scia Deve confermare L'ottimo momento Le premesse fatte E diciamo che Che ci sono Degli sconfitti In questa situazione Dei grandi sconfitti Ho paura No te lo dico Sai chi è stato Il peggiore in campo Domenica Chi non è venuto A vedere la partita Quindi Gli sconfitti Sono coloro Che stanno lontano Da questa squadra Proprio Come hai detto Vede proprio Una bella partita E divertirsi Perché oggi Vedere l'agropoli di Rigoli Mi auguro di non Essere malocchio Vedere l'agropoli di Rigoli Oggi è un divertimento La differenza Tra il tifoso di basket E il tifoso di calcio D'agropoli E qui Questo è il punto vero Riguarda l'ambiente Carlo Mi dispiace Perché il sindaco Purtroppo Essendo giustamente Sede Ha detto Magari l'orario Magari Magari Il freddo No Qual è la tua Io credo che Se si mette la partita Il sabato C'è più gente Perché ormai Il calcio Non si gioca più La domenica Non è più Il giorno deputato Anche perché Avevo le immagini Dell'eccellenza Quando io ancora Non lavoravo Nell'agropoli Ma era il calcio Era il calcio Di domenica Che non esiste più In Italia Purtroppo Non esiste più Tu sei a cavallo Di tre generazioni calcistiche Del 90 Di Giorgio Bubba Gianni Valsino Dove c'era solo quello E la domenica sportiva Adesso è diverso E quindi la gente Tu sei per l'adeguamento La domenica Mentalmente Non ci va più Detto questo C'è una differenza Tra i due ambienti Quello dell'agropoli calcio E quella Del basket agropoli Allora Il basket agropoli Si fa di tutto Per attirare persone Sia nella dirigenza Sia nel pubblico Sia nel settore giovanile Allora Si usano anche Magari mezzi illeciti Fra virgolette Certo Il calcio invece Si fa di tutto Per allontanarli Una proposta Tua Mandare via Nicola Volpe No no Non mi fai No no Era una battuta Era una battuta Nicola è fondamentale Per l'agropoli Ti scrivo il motivo perché No 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 È una battuta però Essendo tale È anche la verità per me Allora Dice Nel calcio agropoli Si fa di tutto Per allontanare le persone Per paura Di perdere Quel Quel giardinetto Che si ci è creato Nel basket Non è così Nel basket Invece Venite tutti Venite tutti Venite tutti Sono mille persone Ogni partita Anche l'agropoli Ha fatto appelli Ha ridotto anche il costo Dei biglietti Non è quello il problema Carlo Non è quello il problema È secondo in classifica Più di questo Ti ho già detto in precedenza Purtroppo Ti ho già detto in precedenza Che Chi non va a vedere l'agropoli È uno sconfitto È il peggiore in campo No Quindi più di questo È chiaro È evidente Il peggiore in campo È bello Nuovo Invece di presentarlo Alla stampa Invece di Dire Questa è una bella città Troverai grandi tifosi Troverai una stampa Che ti aiuta Troverai persone Ti dicono Di quello non ti devi fidare Di quello non ti devi fidare Di quello non è buono Quello è così È vero però Che nel Aspetta Carlo Perché questo è un argomento delicato Sì E quello ti voglio rilanciare Solo questa cosa È vero Anche tu hai Tra virgolette Denunciato La presenza Comunque Attorno a una squadra Che va bene Che si pensa Che abbia certe Determinate possibilità Gli avvoltoi Gli avvoltoi Che ci stanno E purtroppo In questo momento Sono dentro Il problema è questo Viene un giocatore Gli fanno un prospetto Della città Negativo E giustamente Se tu fai il calciatore Vai a giocare Che so io A Rovigo Per dirne una A Rovigo Troverai Ti fidi di quelle persone Che ti hanno portato là Quelle 4-5 persone Che ti fanno il quadro Generale Qui la situazione è così Ad Agropoli Succede questo Che arrivano Questi calciatori nuovi Sono magari Spaisati Non conoscono nessuno Quei due o tre Gli fanno Un prospetto Animalesco Di questa città Allora il giocatore È prevenuto mentalmente Agropoli è una città bellissima Accordiale Accogliente Questo lo dicono Ai giocatori di basket Gli fanno fare Il giro al centro storico Lo portano a lungomare Gli fanno conoscere la gente Lo invitano Con una conferenza stampa La differenza ambientale È questa Carlo Quando queste cose Io queste cose Le ho spiegate Al presidente Le ho spiegate Al Magna Da qui entra Da qui usci Ci sono 4-5 elementi Intorno All'Agropoli Calcio Che vanno Mandati via Ad Oras Vanno tagliate Quelle teste E sogna professionalizzare L'Agropoli Perché oggi abbiamo Un allenatore professionista Professionale Diciamo così Giocatori professionali Perché questi stanno Facendo il loro dovere Però abbiamo Intorno Delle persone Che non li mettono In condizione Cioè Sembra che sia Una proprietà privata E gli fanno vedere La cosa Come piace a loro Questo è grave Perché poi Nei momenti delicati No Nei momenti delicati Quelli là scappano I giocatori rimangono così E la città non c'è Perché ad Agropoli Quando c'è stata la città Vicino ai giocatori Si sono ottenuti i risultati I campionati Magari stanno inferiori Alle squadre più avanti Fammi un esempio Tipo la promozione Di tanti La promozione Quando vincemmo Con la Gerbison In campionato Di promozione Addirittura I calciatori Andavano a ballare Con i tifosi No Andavano in campo E davano il 100% Perché avevano preso L'impegno con il tifoso E' un problema particolare Sociologico Carlo Che può sembrare Ai più superficiale Ma non è così Sempre criptico Anche se Molto dovizioso Di particolari Ti ho spiegato La differenza Tra il basket Agropoli E l'agropoli calcio Fermo restando E lo dico apertamente Non me ne vogliono Quelli del basket Che adoro Il secondo posto Dell'agropoli Nel campionato di serie B Vale quel primo posto Di serie B Cioè Messo sulla bilancia È la stessa cosa Caro Carlo Per cui non è che io voglio Diminuire quello di basket O esaltare quello dell'agropoli Perché fare il secondo posto Del campionato di serie D Ad agropoli È un miracolo Questi stanno facendo Un miracolo E quindi vincerlo Che sarebbe stato Vincere la coppa del mondo Perché Agropoli è un paese Modi 23 mila abitanti Ma è stato sempre Di 12 Tipo Se l'annale Un'agropoli Lice Un'agropoli Auguriamo la serenità Un'agropoli Si è già confrontato Con queste grandi realtà Nel campionato di serie B Di tanto tempo fa No no Parlo di calcio Di calcio Si è già confrontato Con il Taranto Con il Brindisi Con il Catania Qui venne Massimino Ad accompagnare il Catania Quindi non è questo il problema Noi non abbiamo La lilla al naso Che in questo momento Dal punto di vista economico Agropoli non può Andare oltre Il centro classifico Di serie D Perché se noi Si facciamo la vita Della Gelbison No tu dici Conteni ma Gelbison Il presidente Non ci non si vede più Ti fermo Perché ne parleremo Fra un secondo Vedendo magari I risultati Del girone H Parliamo anche Dell'altro girone Perché Sergio Giustamente lo sfruttiamo Per la sua conoscenza Di tutti e due i gironi L'Arzanese Pareggia 0-0 Con l'Altanato Abbattuto il resto del Taranto Dopo 4-5 vittori di fila Brindisi Cavese 2-1 Pomigliano Putiolana 0-0 Fidelissandra Sansevero 1-0 Francavilla Bisceglie 0-0 Gallipoli Potenza 3-1 Monopoli Manfredone 0-1 Polisportiva Sarnese Grottaglie 3-0 Scafatese Gelbison 2-0 La Scafatese Vince con la Gelbison Sergio Ed era forse L'ultima possibilità Per i canarini Di agguantare Magari la speranza Era da 18 E' arrivata A 21 Al cospetto Di una squadra Io sono stato In una trasmissione Martedì La trasmissione di vol E si parlava proprio Di mancanze Di motivazioni Qual è il tuo pensiero? Se lo sta falsando Il campionato Non è un fatto Che magari Al cospetto È una squadra più motivata Non è inconsciamente In tanto perché Non pagano gli stipendi In primo luogo In secondo luogo Perché Hanno fatto un grandissimo Girone di andata Meritando La posizione Anche 5 vittori di fine Meritando quello che Perché hanno meritato Benissimo Ora hanno smantellato Perché c'è anche Lo smantellamento Psicologico Che Non pensi sia una sorta Di appagamento interiore Anche non voluto No non li pagano Il fatto di andare Su campi come questo Se mi fai vedere Un attimo la classifica Andrei Infatti ringrazio Andrei La classifica Ormai è una botta di ferro No per dirti Quando si facevano proclame Anche di Dopo quei risultati Bellissimi di playoff Uno scorre la classifica E vede Guarda Sergio insieme Andrea Potenza Taranto Brindisi Bisceglie Cavese Al posto di chi Di queste squadre Fortissime e blasonate Potrebbe entrare Alla Gelbison E questa è la domanda Che ti faccio Senza considerare Il monopoli Che Gelbison 36 Manca giusto Qualche punticino Per la salvezza Il monopoli Che era partito Per vincere il campionato Con Tommaso Manzo Il tuo amico Francavilla Sansevero Arzanese Pomigliano Quale posto Poteva prendere La Gelbison Di quelle squadre Fortissime La posizione Della Gelbison E' quella Che vedi Come forza Il problema Che nel giro di andata Ha fatto molto Ha meritato Gli applausi Che tutti gli hanno Fatto Ha giocato bene Ha meritato di vincere Di pareggiare Su campi difficili Ad altri addirittura In vantaggio Con Kevin Tulumieri Poi ha perduto Dando un filo Da torcere All'andre Per cui Per cui Quando si sta Verificando Questo lassismo E' come il Parma E' falsato Il campionato Perché prima Le squadre Si sono dovuto Confrontare Con una Gelbison Forte Piacevole Motivata Oggi Questi hanno Mollato Non rischia di essere Un'agonia Da qui a sette partite Dalla fine Domenica Mi fa vedere Un attimo Non lo è già Perché la società Sta scoppiando E la Gelbison E' sull'orlo Del fallimento Si parla di questa Gelbison Molto organizzata A livello societario Io chiedo a te Perché non ne sono Molto informato Qual è la struttura Gelbison come società La struttura Gelbison Come società E' molto migliore Dell'agropoli In senso assoluto Il problema qual è? Che Noce Non è stato capace Di essere collante Di quella forma dirigenziale Sempre importante Che è la Gelbison Che a me Mi piace tantissimo Allora Noce Paradossalmente E' stato colui Che ha smantellato Questa società Vediamo le immagini Che può cambiare Che può cambiare Di tanto in tanto Il presidente Ma che poi Rimane sempre unita E compatta Ma è cambiato tanto Il presidente Di presidenti La Gelbison Ci sei dato una spiegazione Ma sai perché? Perché lei è sempre La stessa società A giro Una volta tocca a Carlo Una volta tocca a... Si tu sei stato uno Di prima a dire Che ci sarà un nuovo presidente Non so Hai notizia in questo senso Si si Che Noce andrà via Anche perché Stanno al collasso economico La Gelbison Si rischia di fallire Puramente comunque La gestione E attenzione perché Io ho lanciato un monumento Anche dai colleghi Della televisione di Vallo Dicendo che la Gelbison Si fa politica A proposito di politica L'amministrazione comunale di Agropoli È da sempre molto vicina All' realtà sportiva Agropolesi Con Alfieri E con Paolo Serra E con altri Franca La faccia anche a Franco Di Biasi Sempre sulle cose Adesso No dico Nel passato Non lo è stato Ah nel passato Me lo insegni tu Perché io giustamente Non c'ero nemmeno Invece a Vallo Tu leggendo anche te Mi dici che L'amministrazione Non è così vicina Addirittura ti porto Una battuta Del direttore Di martedì scorso In altra settimana Disse All'amministrazione di Vallo Non piace tanto E ti ho spiegato Lui è l'uomo di Valiante Che è in contrasto Con l'amministrazione di Vallo E si mette in difficoltà La squadra del proprio paese E che se ne frega Quando mai ha cacciato Una lira di spirito Per la Germison Ma quando mai Quello deve parlare con me Quel signore Quando mai ha cacciato Ma quando mai ha cacciato E poi a che prof Ha il direttore Che è scadente Là la squadra La fa al bano Che è una persona Che tu stimi Ma certo È un ottimo direttore sportivo Che manca alla Cro Ah ecco Che manca la figura Del direttore Manca la figura E noi glielo abbiamo sempre detto Perché Magna Non può fare l'uno e l'altro Persona comunque Si sacrifica tantissimo E oggi Il calcio Il calcio ad Agropoli Oggi è in piedi Per Magna Sì Ci mette Tu l'hai sempre detto Voglio ribadire Quando la squadra Anche quando lo attaccavo Quando la squadra Retrocesse dalla promozione Magna si è sposa In prima persona Per salvare l'Agropoli Magna sbaglia Magna sbaglia un po' il carattere Su certe cose Su certi comportamenti Ma è un fatto caratteriale Non cattivo Hai capito? Sì Comunque ha dato tantissimo E dà ancora l'Agropoli Sempre sul campo A dare suggerimenti A metterci la faglia In generale A parlare Si arrabbia Soffre Per le cose Questo te lo posso testimonare Per esperienza diretta E anche Nicola Volpe Nicola Volpe È uno che sembra Allora dovete smettere Di avere paura di Nicola Volpe In questa città La dovete smettere Di avere paura di Nicola Volpe Stavo dicendo un altro Che Nicola è fondamentale Sul campo Ma non è fondamentale Se se ne va Nicola Finisce la mediocrità Di questa città Se se ne va Nicola Che è una persona onesta Perché quello non si approfitta E capisce di calcio? No È un buon allenatore Di settore giovanile Quindi io A Nicola Volpe Non lo caccerei mai fuori Gli farei fare L'allenatore del settore giovanile Perché quello sa fare Quello che fa Fa danni Fa solo ed esclusivamente Danni Dato che io Sono abituato A dire le cose in faccia Pubblicamente E i fatti Mi danno ragione Perché se non trovi Una persona ad Agropoli Che non dice questo Pubblicamente Lo dico solo io Ripeto Una persona onesta Che sa fare L'allenatore di calcio Quindi non è che io dico Che buttiamo l'acqua Con tutto il bambino No Va salvato Va salvaguardato Perché poi è una persona onesta E di averne nel calcio Di persone oneste Nell'Agropoli Non va bene Perché fa danni Mi dissocio Da una parte Perché io ho a che fare Ragionamente con Nicola Ricordati che Pinocchio Era di fatto di legno Parli della società No Dico no Pinocchio Era fatto di legno Questo non l'ho capito Magari perché Nella vita Ci sono le teste di legno Magari me la spieghi dopo A telecamere Spente La società non è Diciamo Fatto mistero Della stima Ed è l'uomo Che magari Sta sempre sul campo E cosa va E quello è il problema Ci vorrebbero tre ore di trasmissione Forse è meglio avere Giusto mezz'ora Andiamo a vedere il prossimo In difficoltà Andre Giaccio Siccome è ottimo Ci vediamo Il prossimo Così mi si dice Se può tornare Alla vittoria Magari dopo tre sconfitte In quattro partite Dovrebbe magari Vincere una partita Perché là Comunque stanno Bollendo Girone H Il Bisceglie Gioco col Pomigliano Poi col Bisceglie Che era attaccato All'Andrea Dopo la sconfitta In casa con l'Andrea E letteralmente Crollato A proposito di Contracolpi psicologici Cavese-Arzanese Bella partita La Cavese A Cava manco stanno Rose e Fiore A livello Diciamo economico L'Arzanese Si deve salvare Ha fatto una Gran bella squadra Con tanti ex-agropoli Parlo di Ciccio Vitale E di Scognamiglio Su tutti Francavilla Brindisi Gelbison Monopoli Che dici? Ma io credo che il Monopoli Abbia la testa Alla Coppa Italia Come giusto che fosse Ha perso in casa Con il Sì ormai E se non approfitta adesso La Gelbison è davvero Magari per dare un giusto Un segnale Qualcosa Non pensi che magari Purtroppo ci sono Le scommesse in Serie D Quindi magari Però Visto che la Gelbison Si è salvata così brillantemente In anticipo Con 7-8 giochi No 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 Non credo Non poteva approfittare Per far giocare Che non so Tanti giovani Metterli in mostra Magari capitale Sì no Io pensavo Molto criticato Varriale Sì no Le scommesse Non riguardano Nell'Agropoli Nella Gelbison No 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 In generale E riguardano Qualche giocatore Di questo girone Però purtroppo Non dell'Agropoli E non della Gelbison E né della Battipagliese E né della Cavese Però nel girone Vi assicuro Che c'è qualcuno Che le ha prese Anche dai compagni Negli spogliatori Perché gioca Le bollette Però adesso Le agenzie di scommessa Le agenzie di scommessa Adesso sono E poi non segna Molto grave Si devono vergognare Questi calciatori qua Si devono vergognare Tu già hai notizie Diciamo Non dire niente Io so Io so nome e cognome Naturalmente Non le direi qua Non è che No 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 Non lo dico Per carità Però nel senso Che adesso Le agenzie di scommesse I vari portali Sono anche attenti A mettere A quotare Le partite Diciamo Più Le partite già scontate Sono attenti A non quotarle Anche perché sarebbero facile Preda Diciamo Secondo dei giocatori I giocatori Si vanno a giocare Le partite scontate Si vanno a giocare Le partite Delle proprie squadre In maniera Molto subdola Però vengono sgamati Perché questo qui È stato sgamato Ed è stato picchiato Dai suoi compagni E gli spogliatori Come dicono i latini In cauda venenum Spiegami Perché non lo so In cauda venenum Il veneno nella coda Il giustore di risasmissione Ci ha dato la botta Anche se tutta quanta Vabbè Diciamo Di sì Grazie Sergio Per essere stato con noi Grazie soprattutto Di non essere scontato Come tanti personaggi Che regravitano Attorno allo sport Sei stato capace Di farmi parlare bene Dell'agropoli Tutta la sera Eh ok Non proprio Non proprio a tutto Infatti vedremo le conseguenze Il problema è che Molti non comprendono Che io Bisogna leggerti attentamente Sono tifosissimo Dell'agropoli No no quello sì La seguo dal 1972 Quindi immagino un po' Ho fatto oltre 1500 telecronache Dell'agropoli Da giornalista Quindi ti auguriamo Oltre 70 anni A seguire l'agropoli Magari in categorie In categorie superiori Ringrazio Sergio Per essere stato con noi Ringrazio anche Tutta l'emittente Cilento Channel Che fa un lavoro Importante Per la nostra città E non solo per la nostra città La cosa bella di Sergio È che non è etichettato Con nessuna Tu sei tra virgolette Un freelance Lavori a altri emittenti Sei ospite Ovia Ma io sono per la libertà di voce Dappertutto Bisogna aprire televisioni Radio Giornali Sì Bisogna parlare Sono per un pluralismo Anche molte volte selvaggio Però è importante Che ci sia Importante Che ognuno Possa dire La propria E sul pluralismo selvaggio Andiamo in pubblicità Ci rivedremo per la seconda parte E parleremo di categorie minori